Silvio Berlusconi torna a calcare la scena da protagonista. Questa mattina a sorpresa è arrivato a Capri al convegno dei giovani industriali. Quando è sceso dalla macchina a pochi metri dalla piazzetta dei Capri, ha gelato le aspettative delle troupe televisive e dei fotografi. Parliamo dopo quando arriva al Quisisana, ma Silvio Berlusconi dopo pochi metri si è fermato e ha cominciato a farsi selfie e stringere la mano a tutti. Poi dalla platea parla ai giovani industriali. Siamo degli eroi a fare degli imprenditori, dice, perché l'Italia per come è oggi offre un'oppressione fiscale, un'oppressione burocratica, un'oppressione giudiziaria a tutti i suoi cittadini. E in particolare poi si sofferma sui giudici. C'è un'oppressione, anzi diciamolo in modo più chiaro, una dittatura giudiziaria, dice. Io sono un campione della resistenza, nessuno mi batte, nemmeno in un altro pianeta a milioni di chilometri. Ho avuto 6.637 udienze. Questa è la giustizia con cui dobbiamo fare i conti. Silvio Berlusconi al convegno dei giovani sottolinea che sull'introduzione dell'euro non si può tornare indietro, anche perché costerebbe troppo. Ma nel suo intervento accenna la possibilità di una doppia moneta e scherza. Una doppia moneta che potremmo chiamare Silvia, no Lira.